Bene bene bene, qui è Radio Muscletto, ora sentirete per prima canzone il me lo faccio! Grazie a tutti! 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 qui radio muscoletto altre due barzellette anelli quanto costa questo anello domanda un signor gioielliere un milione accidenti esclama l'uomo e quest'altro due accidenti la memoria delle mosche per quale ragione la mosca che è stata schiacciata scusa scacciata ritorna perché ha poca memoria bene 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 lo sentirete jayax intro qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo per la prima volta ho tirato il freno incerto sei fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero col dubbio che per la mia cru fosse un lavoro niente più negli anni ha fatto figli io soltanto dischi e tour mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite da solo bloccato in studio anzolo nella graffita è entrato qui da sbarbato ho firmato ogni contratto mi fidavo come di un padre mi bastava stare sul palco poi erano sempre tutti in vacanza io da solo là che mi sbatto forse lo trattavo da padre mentre mi trattavo da babbo perché fare roba nuova se la gente c'è l'ora e alla fine si innamora solo della novità quasi come se dicessero sei vecchio fuori moda questa roba non funziona se la fanno la tua età ho pagato se non uscito con il bar la menale poi risparmi di una vita prezzo della libertà avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha allora perché non sei morto giovane l'entrata mi fa ricominciare da meno di zero e finalmente sollevare il vero e raccontarmi veramente non l'immagine vincente che la gente prova a vendere di sé non voglio vivere su un grattacielo solo a sputare indietro un po' il veleno la mente non l'immagine vincente che la gente pensa di sé quando dopo sentirete gli applausi di folla significa che è fine della nostra radio per oggi e per la strada mi chiamano zio è Philadelphia e io sono Rocky sarà che al posto di un bambino Dio mi ha dato due milioni di nipoti ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima è stata una pianta meglio prima era però le decadence l'ho trovata genuina ma si sente che ero perso ancora il luto per la fine fatta dalla prima pena quello che credevo fosse mio fratello vero due bambini che da zero hanno messo sulla ghen l'amicizia che è finita come sempre nella vita la politica per le donne e la politica lo voglio vivere cash e cominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarmi veramente non l'immagine vincente che la gente prova a prendere di sé non voglio vivere su un grattacielo solo sputare indietro un po' del leno e raccontarmi veramente lo spettacolo riprende benvenuti a tutti quelli come me mancano 45 secondi alla fine benvenuti a tutti quelli come me benvenuti siamo fuori di qua a fine della nostra radio perati la dimostretta 3 finisce addio